Mi fanno i complimenti, ma li faccio così, quindi... I miei... Qualc'è? Ciao ragazze, ciao ragazzi, anche oggi sono qua con l'ospite speciale, Andrea... Ormai non sono il più speciale, però secondo me spero gradito. Tu e Nile ormai siete una costante nel mio canale. Fa piacere. E ragazzi, oggi ho pensato di fare questo video in cui Andrea indovinerà, o cercherà di indovinare... Mi sento a scuola. I prezzi di oggetti che ho a casa, vari. Buon senso. Anche. Un sacco di cose che secondo me non sai neanche cosa siano. Non so neanche cosa siano. Esatto. Perfetto. Quindi direi di iniziare ragazzi e cominciamo con lui. UFO di Foreo. Voilà. UFO di Foreo cos'è? Una show di lingua? No, il brand è Foreo e si chiama UFO. Allora. Cos'è secondo te? È una... Poi arriviamo al prezzo. Allora, qua vedo che c'è un connettore, quindi è qualcosa che ha... Un qualcosa di elettrico. Sì. Guarda, vista così direi è una cassa bluetooth, però vedo che non è una cassa bluetooth. No, decisamente no. Proprio fuori... È un qualcosa che usano... Non l'hai rotto, tranquilli. No, 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 si toglie perché poi vai ad inserire. Ma c'entra quel trucco, quel make-up? No, ma quel mondo beauty sì. Sembra che sto prendendo il family letter. No, quello non distruggiamolo. Non ho idea di quanto costi perché non ho idea di cosa faccia. Forse mi puoi dare una mano per capire quanto potrebbe costare. Allora non ti dico assolutamente niente. Grazie. Prova ad arrivarci per via traverse. Ogni quanto lo usi a settimana? Una volta a sett... Una, due volte, dipende. E quanto ti dura? Lifetime. Questo lifetime. Ah, vabbè, ok. Però poi ci sono i ricambi, ma non vado a dirti cosa, altrimenti... Ho calcolato un prezzo. Lancia pure, cioè tutte le robe che ti fa sui lanciare. Anche questo? Cioè, no, lancialo no, appoggialo. Ah, ok. No. Guarda che ero già pronto a lanciare. No. Se mi dice di lanciarlo vuol dire che costa poco. Un euro. Poi c'è una bomba, vabbè. Se lanci quella... C'è una bomba? No, una bomba. Lancia una bomba. Una bomba. 3, 2, 1. Costa 279 euro. E che cos'è? È un dispositivo elettronico che ti permette di fare le maschere al viso in modo molto rivoluzionario perché soltanto in 60 secondi. E utilizza anche la tecnologia del calore e della luce e dei colori per fare un trattamento spa a casa in pochissimo tempo. Devi imparare come usare questa tecnica per dire niente in 5 minuti buoni. Infatti immaginavo sapessi che cosa sono. Ma cosa funziona? Io me lo sfreggo in faccia? No, tu praticamente qua alzi questo, ci metti un fogliettino che sono proprio le maschere, ce ne sono di diversi tipi. Poi ci qua, poi la chiudi così, comincia a fare caldo e freddo e vari colori. Lampeggia. Mi vale tutto. Allora io poi passerei. Uh, questa sbrellucicosa. Questa emana, cioè proprio emana soldi da ogni... Perché? Da cosa lo dici? Oddio, sta cadendo tutto. Boh, bella sbrellucicosa. Ma non ci sono loghi, non c'è niente, sei sicuro? Chanel. Già. C'è scritto, è vero. No, vabbè, ma sapevo che è lo stile di Chanel, un minimo. Mi sei già fatto un po' di cultura, diciamo. Però non voglio aprirtela perché te la strappa. No, 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 basta che giri così. Eh, già io la stavo aprendo senza girarla, la stavo strappando. Diciamo che forse evitiamo. Ma ecco qua che margine ho. Eh, col cavolo che te lo dico. Cioè se costa 5999, io dico 6.000. Bene, dai. Oh, se ti avvicini. Intanto rimarrei sorpresa dalla mia cacografia, che calligrafia è già bello, è già dire bella calligrafia, brutta calligrafia, è cacografia. Ok? 3, 2, 1. La metà ragazzi. 3.000. L'avevo detto nell'esempio. Infatti pensavo lo sapessi, poi invece hai scritto 3. Pensavo di meno. Beh, guarda che ci sta un sacco di roba qua, eh. Ci stanno tutte le lacrime che piangi dopo che l'hai presa. Quante volte l'hai portata? 3. E vabbè, tra lockdown, cioè non lo so. Cioè dovresti metterla tutti i giorni fino a quando non si creano i buchi a quanto l'hai utilizzata. Ma hai visto quante ne ho, quindi devo, cioè, spazio. Un po' per uno, mi sanno poi si offendono. Esatto, però tu non devi venire con me a fare shopping, per se no mi blocchi. E poi io sono quello che predica bene e razzola male, eh, perché poi io per me compro un sacco di roba. Esatto, poi tu vai da Gucci, quindi. Ma non mi prendo la borsa. Io arriverei a questo. Questa secondo me è una roba piccola, quindi io dico poco, in realtà questo è un sacco di soldi. Voi l'avete visto? Questo è in uno dei miei ultimi video. Loro sanno. Io non l'ho visto. Non guardo i miei video di make-up? Assolutamente no. Mi sto insultando. Mi sto sentendo insultando. Sto cercando di capire che lavoro faccia la tizia ritratta in questo che... Ma c'entra con... Cos'è che fa? È un'infermiera con una valigia. È una ladra, sta scappando. Nuovo... Cos'è secondo te? Ah, ok, io credo c'è una roba che ti metti qua. Sì. Prodotto make-up. Che marchio è? Che marchio è? Ma è Cartier quel Cartier? No! Quello Cartier, questo è Carité. Tipo burro di Cartier. Infatti mi sembrava un fonte troppo giocarelloso per Cartier. Eh no, Cartier per adesso i trucchi non li fa. Però potrebbero, non sarebbe una cattiva idea. Che non so la fascia, capito? Cioè non so se è costoso, se è... Ma chi lo sa? Siamo a casa di Nicole, quindi non mi permetterei mai di dire che la fascia è... Ma perché? Io sbircio proprio senza nessun tipo di vergogna. Allora, 3, 2, 1, 5 euro. 5 euro. E vabbè, prima mi hai traumatizzato la borsa da 6K e l'altra roba non mi ricordo che... E lo faccio apposta per confonderti, ah scusa, 5 euro e un fondotinto delle bancarelle. Può lanciare volendo questo, lo posso proprio scaraventare in orbita. Sì, quello sì. Hai visto però? Ho detto, no, che poi si dico che costa poco si offende da della barbona che si fa i trucchini. Della barbona. Io direi, anzi no, io passerei... Burro che ho visto più catene lì che... Passerei a questo punto a questa. Questa l'ho sempre voluta, l'ho sempre desiderata, però non la puoi già più usare perché è per gli iPhone vecchi. No, non è vero, è per l'iPhone XS che è quello che ho io. Perché stai dicendo che io ho un iPhone vecchio? Ebbè, non è più l'ultimo. No, è vero, hai ragione. Cioè, sì, è un po' distrutta, guarda che è abbastanza distrutta la mia, però... Come hai fatto a romperla? L'hai usata per scassinare un barile? Cioè, l'hai tirata contro qualcosa? Eh, il mio cellulare cade molto spesso, quindi purtroppo ne risente. Poi, non so quanto costi, ma so che costa più di un iPhone e quindi se ti cade, si rovina, praticamente soffri di più per la cover che per il telefono. Praticamente sì, infatti io quando l'appoggiavo, l'appoggiavo sempre con lo screen del telefono verso il tavolo per non rovinare la cover. Ma sta che è fatta in pelle per forza. E mi prendono tutti in giro per questa cosa. Mi piace che... cosa sei tu? Generazione Z. Sì. Generazione Z non scrive 000, scrive K. Guarda, se vuoi te lo posso scrivere anche proprio nel dialetto. Cioè? Quattro gambe. Gambe? Dove? A Milano? Milano, zona nostra. Speramente? Quattro gambe. Quattro gambe, 4.000 euro. 960. Ma se la vuoi così tanto, compratela santo cielo, costa tanto, ma non così tanto. 960. Costava 600 e qualcosa, 650 per l'iPhone 7. E io ho detto no, la comprerò quando compro l'iPhone nuovo che poi ho preso l'XS o il XS. E hanno aumentato da 6,50 a 9,50. 9,60 mi sono detto. Io pensavo costasse molto di più, troppo. No. Prossimamente sul canale, unboxing della cover di Louis Vuitton. Dai, andiamo stiamo e andiamo a fare shopping. Veramente possiamo andare. Ci sono due Louis Vuitton qua. Andiamo ad Amsterdam. Però tra due settimane mi prendo l'iPhone 12 nuova. No, allora decisamente no. Cioè la taglio apposta per farcelo stare. Prossimo prodotto? Prossimo. Ma cosa che si trova a casa mia? Vabbè, è lo stesso brand. Ora che so che hanno cose che costano poco, non mi freghi più un'altra volta. Poor Premier, vedi? Poor Premier Professional. Non lo so. Guarda che cos'è. E io ti ho rifregato per la seconda volta perché costa 37,50. Invertito rispetto a quello di prima. Ma sia identico. Perché infatti questo è quello originale, quell'altro è la copia della bancarella. Ecco perché. È di benefit. Vedi, questo è l'originale e questa invece è la copia della bancarella. Allora io avevo indovinato che era un brand comunque che si aggirava sui quei, però mi è ingannato. E questo originale lo trovi da Sephora ed è un primer viso. Ce lo applichi prima di mettere il fondotinta. Ma infatti il brand, mi sembrava un brand, ma come ho visto, ho detto costerà un po' di soldi. Invece era una coppia. Hanno pure copiato Carité, non Carité. Io ci sono pure cascato. Non so da dove gli è uscito Carité. E adesso arriverei. Oh comunque non ne ho azzeccato mezzo, cioè è incredibile. E poi arriverei a quest'altra. Mi mette paura solo a prenderla in mano. Penso a una parola, si chiama povertà. Dopo che l'hai presa. Io sparo, poi non lo so. Ehi, non finiscono più gli zeri. No, ormai l'hai scritto, quello vale. No, non vale, non vale. Stavo dicendo. Ti sto fregando in una maniera, costa 20 euro ed è una cinesata pazzesca che ho preso su eBay. È una copia di una Chanel. Allora, sarebbe una Chanel meravigliosa se fosse vera, però è finta. Scusa, l'autentica quanto costa? Questa grandezza non esiste, però sui 6.000 euro. Eh, ok, ci sono andato vicino. Sì, più grande anche di più, ecco, di 6.000. Ma perché infatti lei mi ha detto, guarda che ti metterà una cosa fake. Sì, e io infatti ero convinta che tu ce l'arrivassi. Però poi ho pensato, forse pensavi che fosse il prodotto make-up e invece pensavi che fosse... Ma effettivamente guardando qua sull'interno come è fatta, un po' si vede. Made in Francia, ci sto credendo. Sicuro, guarda. Tantissimo. È un paese della Cina in realtà. Poi, proprio sulla tua realtà, l'impressione. Però è fatta bene. No, è fatta bene. Cioè, è una fake ben fatta che avevo preso per un video e effettivamente è carina da vedere. Cos'è sta roba? Aiuto. Aspetta, visto da qua sembra una cino d'uva gigante. È vero. Cosa? No, Sero, cos'è sta roba? Ma dai, l'hai visto? È giù in soggiorno, è la testa del Buddha. Ti giuro i miei occhi hanno sempre rifiutato di vederlo. È pesantissima. Piano che... Guarda, l'ho dovuta incollare io, non ti racconto che storie ci sono dito, ma è arrivata due volte rotta, quindi l'ho incollata io con la super attack. Ma, raga, di cosa stiamo parlando? È bellissima, vero? In che materiale è fatta? È tipo argento. Cosa avevi della testa quando hai comprato il Buddha? Mi piaceva. Quindi ti devo dire quanto l'hai pagata? Sì. Ma se poi ti dico troppo poco, lui si sveglia nel sonno, si arrabbia e mi rapisce. Può darsi e devi dormire qua ancora due notti, quindi non so se ti conviene. Sarà magnanimo col Buddha. La corte ha espresso un verdetto. Ti insegna un altro gergo. Anziché dire euro, noi diciamo rights. Già vedo magari quelli un po' più grandi che diranno, ah la generazione si muove. Com'era l'altro, scusa? Gambe. Ma che è sta roba? Ma ragazzi, cioè dobbiamo farci un video a parte su tutto questo. Modi di dire milanesi. Vabbè, tu hai già visto tutto? 800 rights. 250 rights. Nicola, sei povera, non posso dirlo che tu ci insultano. Cioè, probabilmente lo sarà tutto in argento, non lo so. Ma ti hanno paccata tantissimo, no? Ma perché è bellissima? Sai cosa, per quello che costa? È bellissima. Me lo comprerei subito, dovresti dipingerlo però. Di che cosa? In rosa, va che mi hai dato un'idea adesso. Dipingilo? Tutto rosa. Ma no, fallo tipo nero e oro. Poi si arrabbia con me, però mi perseguitano i sogni, quindi non è il caso. Lasciano stare il bode. E ultimo, per oggi, è questo. Eh, così mi sei di premium. Chanel, tutto nero, fiero, che tu lo apri, trovi, uh, trovi un bellissimo cos'è. È una crema, ah no, io non ti devo dire niente. Vabbè, c'è scritto. È una crema, l'elite flash eye, ripeterizzante degli occhi. Ce l'ho, tipo con l'irio, te lo metti. No! Non ho idea di cosa sia, però una roba del genere, Chanel. Sai che non ho idea di quanto possa testare? Eh, lo so. Perché obiettivamente, se tu fai una cosa che si chiama l'elite, a quanto la piazza. Ti dà bene l'idea. Eh, sì, me la dà sì. Mi sento già più leggero come soldi, vado solo a parlarne. Io sparo alto perché so che in questo mondo... Tu l'hai visto? No. Hai visto? Te lo giuro. 125. Te lo giuro, non ho visto niente. Dai, giura. Te lo giuro. Ma, possa cadere un fulmine, non su questa casa, sull'intero paese, se non l'ho visto prima. Bravo, bravo, bravo. Ma perché mi ha parlato, mi ha parlato, mi ha detto, lo costo 120. Hai capito che Chanel... No, allora, inizialmente stavo per scrivere 300 e qualcosa, poi mi sono frenato e ho detto, no, dai, 300 per una roba così e per una busta quadrata. Sono dei patch occhi, sono tipo dei... Sono dei patch occhi? Mia nonna mi fa, patch occhi, è uguale. Di patch con gli occhi, sono tipo dei cosi, dei tipi dei cusciletti che tu metti qua e ti idratano la zona del contorno occhi. E poi c'è anche la crema che... Quindi io per farmi idratare gli occhi devo pagare 120 euro a ogni quanti... No, beh, lì c'è tutto un set, poi di patch ne hai tanti. Sarà la prima cosa che comunque non ho mai. Immaginavo. Però la cosa più bella di tutti è stata il Buddha, devo dire. Quindi, mia family, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video e ringraziamo ancora Andrea. Non ne ho azzeccata mezza, però va bene. Grazie a te, Nicola. Secondo me hai fatto divertire, dai, insomma. Come sempre. Questo si scende l'ignoranza in questo ambiente. Chissà se avrò la mia vendetta. Eh, vediamo, vediamo. Anzi, io inviterei... Invitiamo, no? Invitiamoli, invitiamoli. Siete tutti invitati nel mio canale. Andate a vedere il canale di Andrea che ve lo linkerò qua sotto perché ci sarà anche un video che abbiamo fatto assieme. Lei mi ha rivincito. Non aggiungiamo altro. Bene, questo è quanto. Baccio grandissimo a mia family. Abbraccio forte, forte, forte come al solito. Anche i miei ospiti mi guardano sempre malissimo quando abbraccio. Vabbè, piccola parentesi. Ciao! Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.